Senatore Nishita, PD, visita carcere di Augusta Siracusa Noto. Anche quest'anno, per il 24 dicembre, ho visitato tre carceri per verificarne le condizioni e fare gli auguri di buone feste alla dirigenza, al personale amministrativo e della Polizia Penitenziaria e detenuti alle loro famiglie. Sono tornato nella provincia di Siracusa e sono stato accompagnato da Augusta, Siracusa, Cavadonna e Noto. Dai rispettivi consiglieri comunali e PD delle località visitate o comunque territorialmente interessate, assieme ad altri accompagnatori in ciascuna tappa. Lo scorso anno la visita aveva portato a ben due interrogazioni, corrisposte scritte e orali del Ministero e del Ministro e relativi impegni. Abbiamo verificato la sussistenza di criticità infrastrutturali, bagni e doccia da Augusta. Il comune tema dell'insufficienza del personale effettivamente disponibile, Augusta e Siracusa. Il comune tema dell'insufficiente copertura di personale sanitario e infermeristico, Augusta e Siracusa in Noto. L'urgenza della copertura di assistenza psicologica, Augusta e Siracusa. Riporteremo in una nuova interrogazione le criticità riscontrate e avanzeremo talune delle soluzioni già contenute negli emendamenti PD alla legge di bilancio 2024 sul tema carceri.